Il Consiglio Direttivo dell'Ate ha approvato tutti gli atti, compresi quelli trasmessi da Caltacqua, dicendosi agli aumenti tariffari per gli anni 2022 e 2023, aggiornamenti che sono un obbligo di legge predisposti da consulenti dell'ente specializzati in materia e sulla base dei metodi dettati dalla RERA, così ha precisato il Presidente dell'Assemblea Territoriale e Idrica, Massimiliano Conti, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo. In base alla documentazione e ai dati elaborati dagli esperti, l'incremento è del 5,2% per il 2022 e del 2,7% per il 2023. Sono state indicate come variazioni congrue Conti e la Direttore Generale Ate, Antonino Collura, richiamando gli obblighi previsti dalla normativa e dalle deliberazioni a RERA, hanno spiegato ai sindaci che le variazioni tariffarie sono da collegare all'aumento del costo dell'energia elettrica, come a tutti noto, che incide e inciderà non poco sulle tariffe, così viene riportato nel verbale. C'è inoltre la grave morosità registrata, specie da parte degli enti pubblici, che anche questa, aggrava la situazione determinando i previsti aumenti, viene ulteriormente riportato nel verbale della riunione. I vertici di Ati sono certi che questi aumenti siano comunque controbilanciati da un evidente innalzamento della qualità del servizio. Gli investimenti sbloccati e il pungolo che arriva ad Ati sono decisivi, secondo la guida dell'Assemblea Territoriale. Valutazioni che non hanno trovato riscontro dal sindaco Lucio Greco, l'unico a votare contro l'approvazione degli atti e gli aggiornamenti tariffari. L'Avvocato ha nuovamente posto l'accento sulla carenza del servizio in città e su una situazione generale che ha definito grave anche sulla base delle segnalazioni giornaliere che arrivano dagli utenti. I primi cittadini di Caltanissetta, Niscemi, Sommatino, Marianopoli e Milena invece hanno detto sì, precisando che si tratta di un obbligo di legge. In generale, ad esclusione della sindaco Greco, gli altri componenti del Consiglio Direttivo, compreso il sindaco di Niscemi che presiede Ati, hanno descritto un servizio idrico in miglioramento. Il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia, ha approvato i provvedimenti dicendosi comunque ancora non pienamente soddisfatto della qualità del servizio fornito dall'azienda Italo-Spagnola. In città, nonostante tavoli tecnici e investimenti annunciati di stacchi e guasti sono frequenti, il sindaco Greco l'ha ribadito durante il Consiglio Direttivo.